Nella marca è sempre allerta a maltempo, nonostante la tregua a piogge di queste ultime ore. Stato di attenzione massima non soltanto nelle aree golenali, ma anche dove le falde continuano a salire incessantemente e gli argini sono a rischio. Così, mentre a Cimadolmo la provincia implementa lavori di protezione al ponte Sulpiave, a Maserada si teme la nuova allerta in arrivo, secondo previsioni, tra venerdì sera e sabato mattina. Sono preoccupata perché le falde si stanno inalzando, quindi dobbiamo cercare di mantenerle sotto controllo. Stato di massima attenzione anche a Villorba, nelle zone già monitorate di San Sisto fino a Fontane Bianche, da qui a Lancenigo verso Carbonera, vicino al Giavera, quindi in centro a Fontane, in zona Morer e in piazza Cadorna. Timori per le falde anche a Mareno, con il sindaco Gianpietro Cattai che lancia l'allarme nelle zone di Via Biffi, Scanova, Vicolo Sile e Vicolo Padre Daviano. Zone già fortemente colpite dal maltempo con le famiglie che da febbraio scorso sono ancora in attesa di essere risarcite. Adesso tramite anche questa intervista i cittadini possono anche prevedere o tenersi preparati per questa situazione e poi sanno che c'è la nostra protezione civile con le pompe. L'invito è che la prefettura possa presto tenere un tavolo di pronto intervento con tutti i sindaci per poter agire preventivamente. Riteniamo importante coordinarci tra di noi o comunque avere anche un'indicazione a livello superiore su come procedere.